Sono tre i punti che il gruppo di Cusumano porrà all'attenzione del sindaco Valenti, tra questi un programma di fine consigliatura concertato con l'opposizione, la quale continua a non pronunciarsi sulle vicende interne alla maggioranza. Operazione Paspartout restano in carcere a Cursio di Mineo Antonello Nicosia, concessi domiciliari a Massimiliano Mandracchia, i gemelli Paolo e Luigi Ciaccio, intanto l'occhio nero è stata sentita dalla commissione antimafia. Nuova operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Sciacca, a conclusione delle attività con oltre 200 persone identificate, un saccense di 55 anni, è stato denunciato per possesso di 5 dosi di cocaina. Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, i soliti problemi di infiltrazione di acqua piovana alla scuola media Ignazio Scaturro di Sciacca hanno fatto saltare il quadro elettrico e questa mattina le lezioni sono state sospese. E dopo il maltempo delle ultime ore si contano i danni, situazione critica soprattutto lungo i litorali, dove le mareggiate hanno particolarmente eroso le spiagge nelle località balneali saccense di San Marco e San Giorgio. Intitolata Sebastian e Vincenzo Soldano, la palestra dell'IP Emiraglia del Don Michele Arena, con questa iniziativa la scuola ricorda due giovani studenti dell'istituto morti all'età di 16 anni a seguito di due incidenti stradali. Un cordiale benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione, la politica in apertura, un programma di fine consigliatura concertato con l'opposizione, l'istituzione di un coordinamento a supporto dell'amministrazione e il coinvolgimento delle associazioni civiche. Sono questi i tre punti che il gruppo di Nuccio Cusumano sottoporrà all'attenzione di Francesca Valenti. C'è chi parla di marcia indietro da parte dei Cusumaniani dopo le frizioni dei giorni scorsi scaturite dal no opposto dal sindaco alla nomina di Gianluca Guardino in giunta e dalle conseguenti dimissioni di Carmelo Brunetto. Vicenda complessa che Massimo D'Antoni ci aiuta a capire in questo servizio. E' ripartito dal convento del Giglio, storica sede di mille riunioni democristiane a cavallo tra gli anni 60 e gli 80, il ragionamento politico del gruppo Italia Viva, ex sciacca democratica di Nuccio Cusumano. Una ripresa di inizio settimana organizzata per ieri pomeriggio dopo la pausa di riflessione generale scaturita dallo scontro di prima del weekend tra l'ex senatore e Francesca Valenti, a seguito del no opposto dal sindaco alla nomina assessoriale di Gianluca Guardino al posto di Calogero Segreto. Vicenda da cui sono scaturite le altre dimissioni shock, quelle di Carmelo Brunetto a sencire alla rottura politica, vertice quello dei rappresentanti cusumaniani che si è concluso con il licenziamento di un documento contenente tre punti da sottoporre all'attenzione del primo cittadino attraverso il capogruppo consigliare Giuseppe Ambrogio. Il primo, rimodulare il programma di governo, definire le sue priorità di concerto con le forze di opposizione. Il secondo, istituire un coordinamento permanente a sostegno dell'azione dell'amministrazione. Il terzo, convocare gli stati generali della città attraverso il coinvolgimento del mondo dei costituiti come tati civici e delle rappresentanze delle categorie sociali e produttive. È chiaro che al di là del politichese, così come ha ammesso ieri lo stesso Giuseppe Ambrogio, qualcosa si è cambiato. Non poteva esserci in questa lista di punti da esaminare alcun riferimento alle vicende degli assessori dimissionari, tanto meno di quelli mancati. Nuccio Cusumano ha considerato un vero e proprio affronto personale quello operato nei suoi confronti dalla Valenti e di conseguenza ormai l'orgoglio prevale su tutto. È così se i Cusumaniani fanno sapere che non lasceranno la maggioranza. È anche vero che tutto si può pensare, tranne che da oggi non tentino tutte le carte possibili per mettere in difficoltà la coalizione che sostiene Francesca Valenti. A meno che le conclusioni del vertice di ieri del Giglio non siano una sorta di ravvedimento, se non una vera e propria marcia indietro da parte dei Cusumaniani, preoccupati di come l'opinione pubblica stia recependo i contorni reali e quelli immaginifici di questa vicenda. Tuttavia, sul piano delle previsioni immediate e più ragionevoli, la fase politica che si apre dovrebbe essere quella dell'appoggio esterno all'amministrazione. Dunque senza assessori in giunta, magari con gli occhi puntati su tempi migliori, visto che la consigliatura è almeno in teoria ancora lunga. Il primo banco di prova però sarà il Consiglio Comunale, nel quale, anche in seconda convocazione, i tre esponenti di Italia Viva, se gli dovesse prendere il ghiribizzo, potrebbero anche non garantire più il numero legale. Avendo le mani libere potrebbero anche farlo. Eppure il caso del nuovo assessore non sembra del tutto chiuso. La trattativa nella coalizione per coprire posti vacanti in giunta, infatti, potrebbe anche riprendere, nulla impedisce che accada, ma ormai è di tutta evidenza, come perfino il nome di Carmelo Brunetto sia da considerarsi fuori gioco, figurarsi quello di Gianluca Guardino. La Valenti potrebbe dunque manifestare la propria disponibilità ad accogliere eventuali nuove indicazioni che provenissero dai Cusumaniani. Ma come detto, l'orgoglio ferito di Cusumano potrebbe anche far pensare che uno scenario del genere non sia più riproponibile. E allora il Sindaco potrebbe a breve dover chiedere a giovani professionisti, magari non ancora contaminati in qualche maniera dalle militanze politiche, se siano interessati o meno a svolgere il ruolo di assessore. Confidando in un'agibilità politica già compromessa dalla mancanza di numeri in Sala Falcone e Borsellino. Oppure confidando nella possibilità di lavorare rassegnati rispetto all'ipotesi che dietro l'angolo, prima o poi, ci possa essere una mozione di sfiducia. Non c'è molto tempo a disposizione per Francesca Valenti. E questo perché ci sono emergenze che la città non può certamente immolare sull'altare delle trattative politiche infinite. Fermo restando che è tuttora in ballo la questione della possibile nomina dell'ex Sindaco Mario Turturici. Vicenda quest'ultima che però i recenti accadimenti potrebbero aver fatto slittare a data da destinarsi. Ma da sette che dovevano diventare, gli assessori al momento sono appena tre. E pensare che domani sera doveva tenersi l'atteso Consiglio Comunale incentrato proprio sul dibattito politico. Il terremoto dei giorni scorsi ha stravolto la trama del film. Sullo sfondo c'era ancora la questione dell'annunciata rimodulazione complessiva della fase nuova. Ma oggi c'è una nuova sceneggiatura. Ci sono due assessori in meno. Il caso Cusumano e le opposizioni, anche alle sollecitazioni dei giornalisti, continuano a preferire di rinunciare a qualsiasi commento. Intanto sulla vicenda politica interna alla maggioranza, l'opposizione ha deciso di darsi la consegna del silenzio, temendo probabilmente che un eventuale commento possa riunificare le forze che stanno litigando. Solo quelli di Sciacca al centro transigono. Vediamo quest'altro servizio. Il silenzio è d'oro. Così cantavano molti anni fa gli aeroplani italiani. Un ritornello che è una sorta di slogan, tuttora in grande spolvero. Quello preferito da alcuni politici potrebbero trasformarlo in un vero e proprio inno dell'attuale fase, infatti le componenti dell'opposizione al sindaco Francesca Valenti. Nessuno, dal centro d'esse al Movimento 5 Stelle, passando per Fabio Termine di Mizzica, si azzarda a dire una parola che sia una, su quanto sta accadendo all'interno della coalizione che sostiene l'amministrazione. Il caso Cusumano? Come se non fosse mai accaduto. Il timore evidentemente è quello di sempre. Si ha paura che commentando la situazione si sostenga la riunificazione delle forze tuttora divise. E allora meglio stare zitti, come cantavano gli aeroplani italiani. E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire, col cuore buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio. In realtà il silenzio obbedisce solo a un tatticismo esasperato, quello nel quale, per dire, quando c'erano le dirette tv del Consiglio Comunale, tempi che furono, taluna e prime file aspettavano la fine dei lavori per impedire ulteriori repliche e per dire l'ultima parola. Risultato? Intervenivano l'una e mezza passata, quando gli spettatori davanti al video ne erano rimasti ben pochi, nemmeno le loro mogli. Il dibattito politico risente del tatticismo, della voglia di aspettare il momento più opportuno, come se nei tempi odierni il cittadino fosse così attento a questo tipo di sfumature, ma tant'è. Quelli del centrodestra in particolare hanno fatto sapere che si riuniscono questa sera per esaminare la situazione e per dire domani come la pensano. Su questa vicenda preferiscono parlare dunque tutti insieme, non singolarmente, come invece hanno fatto altre volte. Gli unici a dire qualcosa per la verità, sebbene molto didascalicamente, sono quelli di Sciacca al Centro, l'associazione politico-culturale preseduta da Domenica Sala, che fa capo alle posizioni dell'ex sindaco Fabrizio Di Paola. Più che sulla bagarra interna a quello che resta dell'attuale maggioranza, puntiamo l'attenzione sulle mancate possibilità di sviluppo della nostra città, dalla mancata partecipazione al bando regionale legato alla monotenzione dei teatri siciliani alla ulteriore mancata partecipazione del comune di Sciacca al bando europeo per la riduzione dei consumi energetici e della pubblica illuminazione. In entrambe le graduatorie compaiono centinaia di comunità siciliane che beneficeranno di importanti e sostanziosi contributi ed eccezione di Sciacca, che non beneficerà di nulla. Quelli di Sciacca al Centro evidenziano che al proprio interno ci sono rappresentanti della società civile e fanno sapere che occorre ridisegnare la giusta rotta per lo sviluppo del territorio, lasciando stare evidenziano le beghe di palazzo e quella che viene definita continua, incessante, snervante ed intollerabile guerra interna alla maggioranza che dovrebbe governare la nostra città. Ieri si è riunito il direttivo di Sciacca al Centro. È stato deciso che da oggi, ad affiancare Domenica Sala, sarà un portavoce. La scelta è caduta su Gigi Marino, che rappresenterà il gruppo politico pubblicamente e soprattutto in occasione di assemblee pubbliche, eventi ed oggetto, tematiche inerenti alla città di Sciacca. Gli unici a rompere il silenzio, dunque, sono stati quelli di Sciacca al Centro. Per il resto, se non ci fossero tanto odiati da qualcuno o giornalisti, l'inno della città potrebbe essere la canzone degli aeroplani italiani. E allora zitti, zitti, che il silenzio è d'ora, ed anche quando siamo tanti stiamo zitti in coro. Operazione Paspartout rimangono in carcere. I saccensi a Cursio di Mino e Antonello Nicosia, concessi gli arresti domiciliari a Massimiliano Mandracchia e ai gemelli Paolo e Luigi Ciaccio. Intanto, la parlamentare Giuseppina Occhio Nero è stata sentita alla Commissione Nazionale Antimafia in relazione al rapporto di collaborazione avuto con Nicosia. Maria Genuarte. Restano in carcere i saccensi a Cursio di Mino e Antonello Nicosia, arrestati il 4 novembre scorso nell'ambito dell'operazione antimafia Paspartout, messa a segno dalla Guardia di Finanza di Palermo e Sciacca e dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, su provvedimento emesso dalla direzione distretto all'antimafia. Sono stati concessi gli arresti domiciliari invece agli altri tre saccensi coinvolti nell'operazione con l'accusa di favoreggiamento, Massimiliano Mandracchia e i gemelli Luigi e Paolo Ciaccio. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Annalisa Tesuriere. Tutti e cinque erano già stati interrogati dal GIP del Tribunale di Sciacca, Alberto Davico. Ad eccezione dei fratelli Ciaccio, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, gli altri tre avevano risposto alle domande respingendo le accuse mosse nei loro confronti. Antonello Nicosia, ritenuto il postino della mafia, aveva fondamentalmente sostenuto di essere un millantatore e di aver ostentato un potere all'interno di Cosa Nostra mai avuto. Aveva ammesso di far parte dell'associazione mafiosa, ma di essere uscito dal 2016 dopo l'espiazione dell'ultima condanna subita a Cursio di Mino, mentre il commerciante Massimiliano Mandracchia aveva respinto l'accusa di favoreggiamento, sostenendo di non essere stato a conoscenza delle attività mafiose di di Mino, e di essersi limitato a prestargli il suo cellulare per una telefonata ad un cugino in America che poteva dargli un lavoro. Intanto, l'operazione Paspartout, messa a segno nelle scorse settimane, Ciaccio è stata al centro di una seduta della Commissione Nazionale Antimafia, nel corso della quale è stata sentita la parlamentare ex Leo, oggi transitata a Italia Viva, Giuseppina Occhionero, che per alcuni mesi ha intrattenuto una collaborazione con Antonello Nicosia, che avrebbe consentito a quest'ultimo di entrare in diverse carceri e venire in contatto con esponenti mafiosi. Audizione è durata circa tre ore, ma rimasta secretata su richiesta della stessa parlamentare, che già all'indomani dell'operazione era stata sentita dai magistrati palermitani come testimone. Proprio in virtù delle indagini ancora in corso, l'On. Occhionero ha chiesto alla Commissione Antimafia di non rendere noto il contenuto del confronto, durante il quale ha risposto alle varie domande dei componenti, tra queste anche quelle del Presidente Pietro Grasso, già procuratore antimafia e a capo dei Liberi Uguali, formazione politica con la quale la parlamentare era stata eletta nel 2018. Basta operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e tra le varie denunce effettuate c'è anche quella di un uomo di 55 anni di sciacca, sorpreso in possesso di cinque dosi di cocaina. In totale sono più di 200 le persone fermate. Noemi Tummione. È a conclusione dell'ennesimo operazione di controllo del territorio, effettuata in città dalla Polizia di Stato, che un saccense è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 55enne sorpreso con cinque dosi di cocaina. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Controlli programmati d'intesa con la questura di Agrigento e che hanno visto in azione personale di Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca e del Reparto Prevenzione e Crimine di Palermo. In totale sono 214 le persone identificate, alcune delle quali con precedenti penali, 78 i veicoli controllati, 8 i posti di blocco effettuati, 3 le perquisizioni personali e veicolari eseguite alla ricerca di armi o strumenti di effrazione ed ancora 2 ispezioni personali ed una perquisizione domiciliare effettuate alla ricerca di stupefacenti, 2 i sequestri di sostanza stupefacente, mentre una patente di guida è stata ritirata nei confronti di un soggetto trovato in possesso di droga. Sono 22, invece, i controlli effettuati nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari, 7 i controlli amministrativi presso esercizi pubblici, 7 le contravvenzioni elevate per inosservanza delle norme del codice della strada, 2 i punti decurtati dalle patenti di guida, 5 i controlli domiciliari effettuati per la verifica della regolare tenuta delle armi con il conseguente ritiro di tre fucili ed infine 8 le persone controllate con l'etilometro. Tanto tuonò che piove. Lezioni sospese oggi alla Scuola Mediasca Turro per i noti problemi di infiltrazioni di acqua piovana che da tempo interessano il deplesso di Via Santa Caterina dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Infiltrazioni che ieri hanno fatto saltare il quadro elettrico. Il guasto all'impianto non è di immediata soluzione e il preside in tarda mattinata ha mandato tutti a casa. Lezioni sospese oggi alla Mediasca Turro di Via Santa Caterina dove il maltempo di ieri ha generato le solite infiltrazioni di acqua che però questa volta hanno fatto saltare il quadro elettrico. Problema che si è presentato ieri pomeriggio mentre erano in corso le lezioni pomeridiane dell'indirizzo musicale. L'acqua ha raggiunto il quadro elettrico che è saltato generando anche una forte puzza di bruciato oltre alla mancanza di illuminazione. Il dirigente scolastico ha avvertito l'amministrazione comunale che stamattina ha fatto intervenire i tecnici che però avrebbero appurato un danno non risolvibile in mattinata. Di conseguenza le lezioni sono state sospese e non si svolgeranno neanche le attività pomeridiane alla Mediasca Turro. Scuola che pure negli anni passati è stata interessata da un consistente intervento di riqualificazione. Il problema delle infiltrazioni dal tetto e dalle grondaie persiste da tempo e non è stato ancora risolto nonostante le diverse note di sollecito del dirigente dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Pippo Graffeo. Notevoli i danni che già si sono registrati in alcuni locali dell'Istituto Scolastico anche di pregio come ad esempio il Salone Perollo oltre agli attivi laboratori. Ma ogni volta che piove si allaga anche la Presidenza. Questa volta però gli operatori scolastici non hanno dovuto solo far fronte all'allagamento di alcuni locali ben più grave infatti è che l'acqua abbia raggiunto il quadro elettrico facendolo saltare. Sarà necessario mettere in sicurezza l'impianto per poter far riprendere le elezioni. Semafori ancora non funzionanti nel quartiere di San Michele nonostante le tante sollecitazioni dei cittadini e anche del consigliere Carmela Sant'Angelo. In prossimità della porta San Calogero si rischia costantemente l'incidente a causa di un guasto ai semafori che ormai persiste da diverse settimane. Sono i consiglieri Salvatore Monte e Cinzia De Liberto assieme alla collega Sant'Angelo ad evidenziare che la situazione è ormai insostenibile. C'è un'evidente situazione di pericolo legata al fatto che le auto che entrano ed escono dalla porta San Calogero non sono regolamentate. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Non riuscire a ripristinare i semafori lasciando una transenda per settimana e sostengono denota un comportamento negligente ed inefficiente alla pubblica amministrazione che resta sempre e comunque sorda alle richieste e difficoltà del cittadino. Occorre dedicarsi attentamente ai problemi della città concludono Monte, De Liberto e Sant'Angelo tralasciando le liti che caratterizzano l'attuale maggioranza al governo della città. Hanno retto i torrenti a Sciacca nell'ultima ondata di maltempo che ha lasciato oggi la provincia. Le conseguenze maggiori lungo i litorali dove le mareggiate hanno particolarmente eroso le spiagge di San Marco e San Giorgio. Vediamo. Le condizioni meteo per le prossime giornate dovrebbero dare una tregua. Tanta pioggia quella caduta in provincia di Agrigento che seppure non ha sicuramente causato i danni ben noti e ancora in alcuni casi risolti delle due alluvioni passate ha comunque in alcuni punti lasciato il segno. È il caso delle località balneari sacensi di San Giorgio e San Marco dove le mareggiate hanno fortemente rosso la costa. A San Marco molto compromesse sono le strutture in legno dei due lidi che insistono sulla spiaggia a cui si accede da via Ulisse meglio nota come prima discesa. Strada che solo a gennaio scorso aveva subito un importante cedimento del manto stradale e che per il momento pare abbia retto a queste prime piogge della stagione. La situazione al momento più grave è legata come detto ai lidi sulla spiaggia. Situazione che torna ad allarmare residenti in genere che da quelle parti così come hanno fatto solo la scorsa settimana quelli di San Giorgio chiedono maggiore attenzione da parte dell'amministrazione. A preoccupare ovviamente non sono solo le mareggiate difficili quelle da fermare ma i ben noti antichi problemi legati alla viabilità in alcuni casi definitivamente compromessa. A San Giorgio il lungomare è tormentato dall'erosione e i massi che fanno da spalla alla misera carreggiata hanno subito un ulteriore distacco con scivolamento sull'arenile. Piogge e mareggiate inoltre hanno portato via l'unica scaletta di accesso alla spiaggia. Preoccupa i residenti in alcune zone periferiche della città il fatto che quella appena passata è solo la prima lunga ondata di maltempo e che i torrenti che al momento hanno retto a Sciacca così come a Ribera non reggano poi alle prossime piogge. È il caso e le immagini ve le abbiamo mostrate ieri dei residenti di Contrada Fontana Calda dove le piogge incessanti di questi giorni hanno trasformato la strada in un corso d'acqua invisibili buche e avallamenti di cui l'arteria della zona dall'altezza della scuola di Contrada Marchesa fino a tutta la vallata è praticamente disseminata palmo a palmo. Il bilancio 2019 del Comune di Ribera è stato trasmesso questa mattina dall'amministrazione alla Presidenza del Consiglio Comunale è l'ultimo bilancio della giunta guidata da Carmelo Pace quello che arriva è notevole ritardo considerati che siamo alla fine dell'anno peraltro è necessario attendere i tempi tecnici di esame da parte della Commissione e poi l'esame d'adozione in Aula è il bilancio al quale però è legata la stabilizzazione di circa 90 precari al Comune di Ribera l'amministrazione ha previsto le somme necessarie ad assicurare i contratti a tempo indeterminato per i contrattisti che ormai da decenni svolgono mansioni importanti al Comune anche in virtù dei pensionamenti nel frattempo intervenuti se per i contrattisti la strada è spianata e c'è da attendere solo l'approvazione del bilancio sale invece l'attenzione in relazione alla posizione di altri precari gli ASU che pure chiedono la stabilizzazione che hanno recentemente proclamato lo stato di agitazione chiedendo un consiglio comunale straordinario la loro posizione sarà oggetto di dibattito nel corso della seduta consigliare in programma domani sera come richiesto dall'opposizione ma l'amministrazione ha chiaramente detto che la stabilizzazione per questi lavoratori non è possibile perché non c'è una norma regionale che lo consenta intitolata sebastian e vincenzo soldano questa mattina la palestra dell'ipia miraglia annesso all'istituto don michele arena la scuola con questa iniziativa ha voluto ricordare due giovani studenti dell'istituto prematuramente scomparsi all'età di 16 anni in due incidenti stradali siamo andati anche noi avevano entrambi 16 anni ed erano tutti e due studenti dell'ipia sebastian e vincenzo soldano sebi morto il 4 febbraio del 2016 in un incidente stradale nei pressi del cimitero vincenzo il 9 febbraio 2018 in un incidente in via mazzini due giovani vite spezzate due sedicenni accomunati da un tragico destino la scuola per mantenere sempre vivo il loro ricordo ha deciso di intitolare a sebastian e vincenzo la palestra dell'ipia la cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza dei familiari abbiamo pensato di ricordare questi giovani sfortunati e di ricordarli attraverso la posizione di una targa in quello che è uno dei luoghi più gioiosi di una scuola la palestra a futura memoria nel ricordo di questi ragazzi che sfortunatamente sono stati coinvolti in un incidente stradale e sono venuti a mancare questo è uno strazio non solo per le famiglie ma per l'intera comunità noi cerchiamo anche attraverso questi momenti di ricordare sempre ai nostri giovanissimi che la prudenza che l'attenzione che i corretti comportamenti possono salvarci la vita certo non quando il fatto ci avverso ma sicuramente essere prudenti custodire la propria vita come il bene più prezioso è uno degli insegnamenti che forse dovremmo dare ai ragazzi con priorità assoluta è un momento sia di dolore che di gratitudine nei confronti della scuola che hanno voluto ricordare con questa targhetta in memoria di Vincenzo e di Sebi voglio ringraziarli a tutti per il pensiero che hanno avuto e per i ragazzi che sono stati i numerosi che hanno partecipato a questo evento con tanta commozione non solo l'intitolazione della palestra ai due giovani studenti prematuramente scomparsi all'IPIA questa mattina c'è stata anche l'inaugurazione dell'aula di inclusione sociale e dell'aula magna dove sono stati completati i lavori di ristrutturazione realizzati da studenti insegnanti e personale scolastico quest'aula dove adesso stiamo effettuando queste riprese è la nuova aula per l'inclusione scolastica noi siamo centro territoriale risorse handicap e quindi in realtà non è solo per i nostri studenti disabili ma per gli studenti disabili dell'intero territorio per l'occasione la nuova aula magna dell'IPIA ha ospitato questa mattina un interessante convegno a completamento delle attività realizzate ieri per la giornata contro la violenza sulle donne tra i relatori la dottoresse Salomone responsabile del centro antiviolenza alla fenice di Sciacca la gente comincia a essere sensibile a questo problema ormai se ne sentono troppe e quindi ormai è diventato un problema sistemico all'interno della nostra società e come tale dobbiamo affrontarlo il fenomeno è in crescita la richiesta di aiuto almeno è in crescita noi abbiamo seguito fino ad ora dal 2011 effettivamente lo sportello funziona circa 380 casi e quindi la richiesta di aiuto delle donne comincia a essere consistente le donne cominciano a prendere consapevolezza che forse possono salvarsi il comune di Burgio è stato protagonista dell'ultima puntata di Borghi d'Italia il programma culturale di punta di tv 2000 il canale televisivo del Vaticano ampio spazio è stato dato alle famose campagne di Burgio ma anche alle chiese alla ceramica locale alle tradizioni religiose del territorio legato alle festività del Natale e della Pasqua vediamo le famose campane e la fonderia ma anche la ceramica i prodotti tipici del territorio le feste tradizionali legate al Natale e alla Pasqua i piatti del territorio e le chiese ampio spazio è stato dato al comune di Burgio nell'ambito dell'ultima puntata del programma Borghi d'Italia format culturale di punta di tv 2000 il canale televisivo del Vaticano il programma è stato un vero e proprio viaggio nell'agricoltura l'artigianato e le peculiarità culturali e naturalistiche di Burgio hanno suscitato grande interesse le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione rurale con particolare riferimento alle fragoline di bosco e al tartufo del territorio sempre nell'ambito della tradizione rurale è stata molto apprezzata l'arte culinaria burgitana con spazio finale dedicato persino al dialetto locale diversi gli interventi durante la trasmissione tra cui quelli del sindaco Francesco Matinella e del presidente del consiglio comunale Vito Ferrantelli il comune di Burgio ha storicamente dato grande rilevanza ai temi della cultura e lo testimoniano i numerosi beni culturali le chiese e le opere d'arte ma anche la presenza di tre importanti istituzioni museali intanto il museo dedicato al venerabile Andrea un frate cappuccino vissuto agli inizi del 1700 di cui sono note le importanti doti taumaturgiche il museo racconta il lungo peregrinare di questo umile fraticello in diversi luoghi dell'Europa e dell'Africa dove ha trascorso molti anni della sua vita sempre nello stesso convento è presente un singolare museo delle mummie all'interno della chiesa vi è una cripta dove sono custoditi dopo un restauro effettuato nel 2002 50 corpi mummificati di altrettanti notabili del paese le cui famiglie ovviamente su volontà di gli stessi hanno fatto ricorso alle pratiche alle tecniche utilizzate dai frati cappuccini nel XIX secolo fiore all'occhiello delle istituzioni museali di Burgio è certamente il MUCEB acronimo di museo della ceramica di Burgio è stato realizzato nel 2010 ubicato in un altro convento di frati cappuccini e minori e nasce grazie alla virtuosa collaborazione tra il comune di Burgio la soprintendenza dei beni culturali di Agrigento e la galleria regionale di Parazzo Abbatellis Burgio è un piccolo borgo della provincia di Agrigento con circa 2600 abitanti un'altitudine di 317 metri a livello del mare Burgio ha un'origine arabo-normanna questo si evince anche su alcune testimonianze che abbiamo nella chiesa madre con il portale di origine normanna ma anche per la disposizione del paese soprattutto del centro storico con le strette viuzze e con i cortili tipici di quell'epoca Continuiamo con i consigli della libreria Mondadori La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin da piccola quando osservava lo scorrere dell'Oder desiderava una cosa sola essere una barca su quel fiume essere eterno movimento è questo spirito guida che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori dall'ordinario come la sorella di Chopin che porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia per seppellirlo a casa come l'anatomista olandese scopritore delle tendine di Achille che usa il proprio corpo come terreno di ricerca come Soliman rapito bambino dalla Nigeria è portato alla corte d'Austria come mascotte infine alla morte impagliato e messo in mostra è un popolo di nomadi Slavi i bieguni i vagabondi del titolo che conducono una vita itinerante contando sulla gentilezza altrui come tanti affluenti queste esistenze si raccolgono in una corrente una prose che procede secondo un andamento talvolta guizzante come le rapide talvolta più lento come se attraversasse le vaste pianure dell'est per raccontarci chi siamo stati chi siamo e forse chi saremo individui capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi ci rende vivi e ci trasforma perché il cambiamento è sempre più nobile della stabilità i vagabondi di Olga Tokarczuk Edito Bonpiani Siamo alle arti marziali successo per la sakura del maestro Giuffrida la settima edizione dell'Educarate che si è svolta ad Acicastello il sudalizio sacenze ha centrato quattro primi posti nel servizio spazio anche alla Bushido team che ha primeggiato a Salerno e al basket con gli impegni dell'Icaro Sciacca vediamo La sakura di Sciacca guidata dai tecnici Giuseppe e Andrea Giuffrida ha preso parte alla settima edizione dell'Educarate Cup gara organizzata dal comitato regionale dello C-Sign La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti che si sono affrontati al pala cannizzaro di Acicastello La sakura era presente nella specialità del Catà con Emanuele Guardino ed Elena Gioralando e entrambi classificatesi al primo posto nel comitè invece primo posto per Sergio Bono e Sebastian Tornetta secondo posto per Emanuele Guardino e Laura Pumilia soddisfazione piena per questi risultati un test molto importante in vista dei successivi impegni ha commentato il tecnico Andrea Giuffrida la sakura non si ferma domenica primo dicembre infatti sarà impegnata ad Altofonte in un'altra competizione di Karate Cisain alla quale parteciperà con un maggior numero di atleti sono dei test interessanti nell'attesa di prepararsi al prestigioso Open di Malta a cui la sakura parteciperà nei prossimi mesi e passiamo alla Bushido Team protagonista Salerno in Campania con la prima tappa del nuovo circuito VTK i ragazzi del maestro Francesco Graffeo hanno ben figurato in quello che era un appuntamento rivolto alla Coppa Italia nella kickboxing nelle varie categorie suddivise per peso primi posti per Danilo Bivona Ivan Guardino e Samuel Giglio secondi posti invece per Accurcio Sabella Daniele Montalbano e Marco Di Grande per Bushido Team quindi i primi punti ottenuti in vista della conclusione del circuito prevista stavolta a Velletri a dicembre infine appuntamento con i passaggi di cintura per diversi atleti seguiti dal tecnico Graffeo e concludiamo con la palla canestro prosegue l'attività della Icaro Basket Officine Raneli per il campionato di promozione i ragazzi di Giovanni Monastero e Sara Vignanello sono stati sconfitti a Mazzara del Vallo nell'ambito di una partita comunque molto combattuta 61 a 40 il risultato finale una buona prova malgrado la sconfitta per la Icaro sono andati a punti Gallo con 13 punti Giacone Cirami Di Stefano Gibara Caram Currelli 7 punti e Viviano con 3 partita casalinga invece per il gruppo saccenza degli under 14 battuti a Ribera dal Real Basket di Agrigento per i giovani della Icaro punti per Barone con 5 Ragusa 5 Liotta 2 Righi 8 Pumilia 2 e piazza anche gli due punti per la Icaro Basket Officine Raneli prossima partita con gli under 18 domani a Marsala mentre altri appuntamenti agonistici in calendario sono previsti per domenica 1 dicembre Siamo in chiusura è davvero tutto grazie per essere stati con noi nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali tutti gli aggiornamenti grazie arrivederci a sei Grazie a tutti.